Un lieto evento anima la vigilia della 67esima edizione del Presepe Vivente dei Rivi Sondoli. Per la prima volta nella lunga storia della manifestazione, il bambinello presentato nel giorno dell'Immacolata non sarà lo stesso nella capanna del Presepe, prossimo 5 gennaio 2018. Infatti il 3 dicembre scorso William Vittori e Francesca Ferrara hanno avuto un bel maschietto, Edoardo. Nel pieno rispetto della tradizione, che vuole l'ultimo nato dell'anno in paese a ricoprire il ruolo di Gesù Bambino, sarà proprio lui, a poco più di un mese dalla nascita, il bambino nella mangiatoia del Presepe Vivente più antico d'Italia. A noi genitori la partecipazione di nostro figlio alla manifestazione ci riempie il cuore di una gioia infinita, affermano William e Francesca. Siamo felici di poter portare avanti una tradizione che ci appartiene da sempre. Una vicenda che arricchisce di novità il Presepe ma lascia un po' di amarezza nei genitori del neonato Simone Buono. Ci dispiace di non poter partecipare a una manifestazione che è la storia del nostro paese, hanno detto i genitori di Simone, ma le regole della tradizione vanno sempre rispettate e seppure a malincuore ci facciamo da parte e saremo comunque nella piana di Pielucente ad ammirare questo evento straordinario che è il Presepe Vivente di Rivi Sondoli. Per il resto la preparazione della suggestiva rivocazione della Natività va avanti a ritmo serrato. L'attesa è grande per la 67esima edizione dedicata alla solidarietà e alle popolazioni dell'Umbria col piede dal terremoto, un'edizione che si annuncia ricca di novità e di gradite sorprese.